Amiche di unghie, durante una live mi sono fatta la mia mano destra e ho utilizzato il metodo delle tip per allungare il bordo libero. Cosa sto facendo? Sto andando ad abbassare lo scalino che rimane attaccato sull'unghia perché non voglio che dopo, una volta attaccato, ci sia lo scalino e debba andare di nuovo ad abbassare questo scalino. Lo sto facendo questo, questa cosa la faccio maggiormente quando utilizzo una base gel per attaccare le tip. Io utilizzo sia la colla per attaccare le tip e sia anche il gel. Quindi in questo caso, avete visto all'inizio del video, vi ho mostrato una boccetta e quella è una base gammi, una base rubber di BSN. Sono le nuove, già che ci sto faccio un attimo di pubblicità, sono le nuove gammi di BSN e abbiamo un codice sconto con BSN che è Adoriximo. Quindi vado a mettere la mia torcia, la mia torcia è mia, la uso solo io, la tengo con i denti e qui si può capire, si può vedere. Mia madre si è dimenticata di farmi il terzo braccio e quindi io da sola mi trovo comoda a fare in questo modo. Quindi metto un goccettino, ma proprio poco prodotto, così come va usata poca colla quando la andiamo ad attaccare con la colla, lo stesso qui va usato poco prodotto. Perché qui dobbiamo premere, dobbiamo premere abbastanza per appunto attaccare la tip e mettendo troppo prodotto, quando poi vai a premere, giustamente questo prodotto cammina da qualche parte deve andare. Quindi dovete fare delle prove, sicuramente sbaglierete, sicuramente avrete dei problemi con il gel che va, cammina sopra, sotto eccetera, ma insomma a un certo punto poi capirete. Come vedete, non faccio altro che fare questo, le mie dita sono storte, quindi mi devo mettere in una certa posizione per provare ad attaccarle dritte, per avere risultato finale visivo di unghie dritte. E quindi mi appoggio, le metto in questo modo, mi piacerebbe tanto poterle mettere con la mano girata, ma mi rendo conto che su me stessa, quando le metto con la mano girata, alla fine le vado ad attaccare storte. Quindi utilizzo questo metodo, così riesco a vedere in che direzione sto mettendo questa tip. Quindi continuo a fare questa cosa e praticamente una volta attaccate e abbassato lo scalino precedentemente non ho nessun tipo di scalino al momento che appunto poi sono attaccate. Così posso andare poi tranquillamente sopra con gel, poligel, acrilico, con il sistema che volete e non devo andare di nuovo ad abbassare il prodotto. Questa cosa la faccio di più quando utilizzo appunto il gel per attaccarle, non so perché, non so perché, con la colla non lo faccio molto questa cosa. Se ho da abbassare, abbasso dopo perché, boh, non lo so, è una cosa meccanica. Comunque in teoria si può fare anche quando si utilizza la colla di abbassare lo scalino. Addirittura altre volte non lo abbasso proprio questo scalino, anche se mi rimane lo scalino. Dipende un attimo dalle situazioni, io vi faccio vedere un po' di cose, un po' di metodi e poi magari mettete in pratica quello che più vi aggrada. Quindi qui compare appunto la mia faccia ovviamente, aspetto qualche secondo, serve molto poco che comincia a polimerizzare appunto il prodotto, giusto per fermarlo. E poi vado in lampada grande a completare la polimerizzazione. Questo gel vuole 60 secondi in lampada LED, leggete le etichette dei vostri prodotti per capire quanto vi dice la marca che dovete stare in lampada per polimerizzare completamente il prodotto. Quindi di nuovo faccio questo e praticamente, non so se si riesce a vedere, ma appunto abbassando lo scalino prima, una volta che io attacco, non c'è proprio niente, non c'è proprio nessun tipo di scalino. Quindi va bene, faccio questo, qualche secondo la tengo ferma e dopodiché di nuovo gli do qualche secondo di luce. Questa lampadina poi comunque non ha un vattaggio altissimo e quindi chiaramente non può completare la polimerizzazione completa. Quindi vado, scusate il giro di parole. Vado in lampada, come detto, taglio quello che c'è da tagliare e questo è quanto. Sul mio canale YouTube c'è il seguito di queste unghie. Ho fatto una live mentre mi stavo facendo queste unghie, quindi se volete venite di là sul mio canale YouTube. Un bacio grande grande e ciao!